Buonasera, allora questa è l'ora giusta per voi per vedere questo film che si chiama Metamorphosis che è un vero horror e ha tutti gli elementi che i veri horror, almeno nel senso tradizionale dovrebbero avere esorcismi, possessioni, omicidi, sangue, corvi, il film è molto divertente ed è anche molto spaventoso quindi preparatevi a divertirvi e a spaventarvi, una nota curiosa di recente, Metamorphosis è stato un grossissimo successo al botellino in patria, tanto da scavalcare l'ultimo episodio per esempio di Fast and Furious ed è, credo, un elemento interessante del film. E ho qui con me il regista del film, Kim Aung-sung Buonasera a tutti Buonasera a tutti, io sono regista di questo film, Kim Aung-sung e prima di tutto vi ringrazio tanto per essere venuti qua per vedere questo film E tutti i miei staff e i coreani abbiamo messo tanto cuore per fare questo film Buonasera a tutti, grazie mille Liberizzatevi tanto, grazie mille Grazie Per chi vuole e per chi è curioso domani Kim Aung-sung avrà la conferenza stampa nel luogo adibito alle conferenze stampa domani mattina Grazie, buona visione Grazie 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 Grazie